Pordenone Blues Festival con musica, teatro, arte, cinema, letteratura, itinerari enogastronomici e culturali. E' questo il ventaglio degli eventi che si mescoleranno in sette giorni nella ventesima edizione. Il Pordenone Blues Festival è la prima rassegna dedicata a questo tipo di musica in Friuli Venezia Giulia. Oltre 200 tra artisti addetti ai lavori parteciperanno tutti uniti per creare un evento memorabile con il blues come elemento di riferimento. La posizione del comune di Pordenone nelle parole del sindaco Claudio Pedrotti. Per una manifestazione come questa, voi sapete, ce ne sono state altre, ce ne saranno altre, ma vent'anni per una manifestazione di questo tipo sono il segno di una maturità, di una presenza e di un'affezione nella città che è raro trovare. E in effetti l'edizione di quest'anno ha una ricchezza e una partecipazione, sono ben sette nazionalità diverse presenti in questo festival. che fanno onore a Pordenone, ma d'altra parte Pordenone è orgogliosa del fatto che una manifestazione del genere a completamento dell'offerta dell'estate in città sia stata svolta in modo così efficace da chi questa manifestazione la organizza. Quindi adesso rimane solo l'imbarazzo della scelta per andare a vedere tutti questi spettacoli durante un periodo di tempo così concentrato e così stretto. Quindi buon divertimento a tutti, ma è un'occasione imperdibile per la città.